siamo in estate cosa si fa in estate ci si riposa ma non vi libererete di noi perché abbiamo fatto una nuova applicazione per tablet ottimizzata per gli schermi da 7 10 pollici quindi non ridimensionata quella per gli smartphone e anche per far vedere meglio i contenuti che si vedono sul computer sul sito web su youtube perché c'è una funzionalità interessante che nemmeno sulle playlist di youtube c'è che è quella dei filtri per marchio quindi volete vedere le nostre video prove magari di macchine concorrenti come che ne so la nuova sportiva che abbiamo provato di recente l'audi r8 e confrontarla con una bmw i8 o una mercedes gt con il tablet potete farlo ed è molto semplice da navigare l'abbiamo diviso tutti i contenuti in quattro sezioni news prove video e foto anche qui filtrabili per brand per differenti marchi quindi potete sbizzarrirvi e quindi vi auguro buone vacanze stravaccatevi come me sul divano oppure se preferite sotto l'ombrellone sullo sdraio e scaricate l'applicazione perché è gratuita sia per android che per ios